Tutto nasce da un fortunato ritrovamento nella primavera del 2022. In un armadio della casa milanese di Francesco Scotti, il figlio Peppe e la nipote Alice rinvengono tre fogli protocollo dalla calligrafia e dalla firma inconfondibili. Ma stasera Silvia Truzzi ed io, per raccontarvi Gramsci, vogliamo incominciare proprio da Nino. Come abbia fatto Nino a diventare il grande Antonio Gramsci. L'immagine che abbiamo in testa di Antonio Gramsci è legata essenzialmente a due foto. Quella iconica che è finita sui libri e sulle magliette e la foto segnaletica del detenuto politico provato da anni di carcere. Odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. Sapreva scrivere quel ragazzo ventenne e anche impugnare la penna come strumento di lotta. La scuola, se è fatta seriamente, non lascia tempo per l'officina e viceversa. Sarà affascinante, spero, scoprire come dall'inaspettata geniale precocità di Nino ventenne sia poi sbocciato un pensiero che ha lasciato e lascia un segno incancellabile nella nostra storia. E vedrete che ha anche tante cose da dire all'Italia di oggi. Grazie.